Direttamente dalla Cameretta Magica, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi, 4 di aprile, finalmente ambozzeremo l'uovo di Pasqua di Toy Story. E con me ci sono anche Woody della Toy Story Collection e Buzz Lightyear della Toy Story Collection. Comunque, analizziamo. Qui è scritto in ogni uovo Toy Story, queste sorprese prendono vita grazie alla King Rap. Qua è un'immagine di base dei Woody. La carta è molto bella. È scritto Disney Pizza. Adesso apriremo con calma, proprio con delicatezza. Ecco qua. Ovviamente questa me la terrò perché è bellissimo. E ora Andiamo ad aprire l'uovo. Aspetta, scusate, che poggio un attimo Woody e Buzz sul letto. Chissà che ci uscirà su, che ci uscirà fuori, se è Woody o Buzz Lightyear. Adesso lo scopriremo subito, cosa è uscito fuori, cosa ci uscirà fuori, se è Woody o Buzz. Opla Comunque il video Penso che uscirà tra qualche giorno Penso tra Tra due o tre giorni Allora Ecco qui l'uovo Apriamolo Sì, diamogli pure una botta con la zaccagna Magari almeno l'uovo collaborerà con noi Ma è troppo liscio, quindi Dai, vediamo un po' Ora scopriremo cosa uscirà fuori Se Woody o Buzz Diamogli un pugno Forse è meglio dargli incazzotto Perché almeno così Si spaccherà in un colpo solo Che dicevo Assaggiamo la cioccolata Buonissima La Kinder sempre il top E ora apriamo questa capsula Che sarà uscito Woody Con Bullseye Allora Adesso Questa è la cartolina di Woody Poi Qui abbiamo dei vari adesivi E qui ci fa vedere come si monta Woody E qui ci fa vedere come si monta Woody Allora Montiamo questo Comunque è molto carino Uniamo Uniamo Bullseye E Infileremo A un meglio Riscomponiamo Bullseye Mettiamo dentro la sella E Voilà Il gioco È fatto Molto ma molto bello Proprio Bello Quindi Woody È stato veramente Veramente Contento Di aver trovato Un suo anonimo Nell'uovo Vero Woody? E Buzz Come Come ci è rimasto? Ho capito Ci è rimasto molto male Buzz Lightyear Ma Ma In fin dei conti O usciva uno O usciva l'altro Comunque Woody Rimane pur sempre Il mio personaggio preferito Quindi In fin dei conti Mi è andata Mi è andata benissimo Poi se fosse uscito Buzz Lightyear In fin dei conti Sarebbe andato Sarebbe stato Sarebbe stato Sarebbe stato Uguale Uguale lo stesso Che dire E niente Buona Pasqua a tutti Ci vediamo Alla prossima Alla prossima